Agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Urbino durante attività di controllo del territorio per il contrasto del traffico di stupefacenti con l'utilizzo di unità cinofile della questura di Ancona ha rinvenuto in un terreno adiacente al quartiere Urbino 2 all'interno della cavità di un albero un involucro contenente circa 75 grammi di hashish suddivisi in dosi. Al momento sono in corso indagini per identificare l'autore dell'occultamento della droga. Sempre mediante l'utilizzo di cani inoltre è stato possibile recuperare anche due coltelli da cucina presumibilmente utilizzati per la suddivisione delle dosi. Gli agenti del commissariato Urbinate inoltre hanno denunciato in stato di libertà due fratelli di origine marocchina per il reato di furto di energia elettrica. Dagli accertamenti eseguiti anche in collaborazione con la personale Enel Distribuzione Agenzia di Urbino è risultato che i due extracomunitari nel corso degli ultimi mesi avevano sottratto energia elettrica mediante un allaccio abusivo al contatore.